per prima cosa polverizzate 60 grammi di zucchero nel boccale 20 secondi velocità 10 trasferitelo in una terrina senza lavare il boccale aggiungete 125 grammi di burro azionate il bimbi due minuti velocità 3 ecco come dovrà presentarsi aggiungete tutto lo zucchero azionate il bimbi un minuto velocità 3 aggiungete un nuovo piccolo mi raccomando azionate il bimbi un minuto velocità 3 aggiungete 200 grammi di farina doppio zero e qualche goccia estratto vaniglia azionate il bimbi un minuto velocità 3 trasferite il composto in una pistola per biscotti così quindi create i vostri biscotti così io se notate sparo due volte visto infornate a 150 gradi forno precedentemente preriscaldato statico per circa 15 minuti come potete vedere io sto creando dei lecca 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 biscotto per i bambini quindi cosa facciamo mettiamo un po di nutella prendete uno stecco e adagiatelo così prendiamo un altro biscotto e fate una lieve pressione riempite di nutella una siringa per dolci quindi create sopra i biscotti le decorazioni così aggiungete i confettini potete arricchire anche con dei confettini al cioccolato potete arricchire anche con dei prodotti 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 potete arricchire anche con dei prodotti